In casa L'Aquila a tenere banco è ancora la questione sulla vendita di quote del club. La situazione attuale è questa. I dirigenti aquilani hanno fatto una proposta di vendita del 12,5% ad un gruppo di imprenditori, tra cui dovrebbe esserci un esponente dell'azienda Orafa Toscana, Graziella Group, che però non sembra assolutamente far parte della trattativa, come confermato qualche giorno fa dal presidente Gianni Gori. Dunque si tratterebbe di imprenditori che avrebbero solo inizialmente fatto presagire il coinvolgimento della prestigiosa ditta Orafa Toscana nella trattativa, ma che in realtà stanno agendo per conto di un'eventuale nuova società imprenditoriale. Il club Rossoblu in ogni modo ha proposto a questi imprenditori, tra cui ricordiamo c'è l'ex vicepresidente del Martina Franca Enrico Folgori, 100.000 euro per la vendita del 12,5% delle quote, con la possibilità di incrementare la percentuale nel corso dei prossimi mesi, dopo aver eventualmente collaudato il nuovo assetto societario. Al momento però non c'è stata alcuna risposta e l'Aquila sta provvedendo autonomamente alla raccolta del denaro per rispettare tutte le scadenze del 16 febbraio. Certo, le interferenze societarie non aiutano a mantenere sereno l'ambiente già scosso dalla penalizzazione in classifica e dalla difficile risalita per la salvezza. Intanto, sul fronte squadra continua la marcia di avvicinamento al match di sabato pomeriggio contro la capolista Spal. Nel corso della partitella in famiglia, giocata ieri mattina sul campo di Acquasante, il terzino siciliano Dennis Di Mercurio si è aggregato per la prima volta al gruppo, disputando una ventina di minuti. Dopo la lesione di primo grado, rimediata alla gamba a inizio gennaio, per l'ex Palermo sabato potrebbe esserci la prima convocazione di Perrone. Intanto, quasi certamente nel 3-5-2 di partenza, sull'out di sinistra contro la Spal giocherà ancora una volta l'ex Lecce Giacomo Ligorio, che non ha paura della prima della classe. No, paura no. Naturalmente c'è grande rispetto per questa squadra e per questa corazzata. Reduci dalla partita del girone d'andata, sicuramente sappiamo di poter fare bene. Ricordiamo la partita dell'andata che non meritavamo la sconfitta, nonostante abbiamo perso 2-1. E niente, ora speriamo di rifare quella prestazione e di riportare punti in classifica. Ricordiamo la sconfitta.